www.finanza.com Per il mercato di ETF in Europa dove sono stati raccolti circa 60 miliardi e in Italia dove la raccolta ha superato i 7 miliardi e mezzo di euro e i primi mesi del 2015 sembrano andare nella stessa direzione, anzi sembrano accentuarla. Su Borsa Italiana nei soli mesi gennaio e febbraio sono stati raccolti oltre 2 miliardi di euro, continuiamo a vedere flussi nel mese di marzo e riteniamo che quest'anno possano essere battuti ancora i record degli scorsi anni. C'è parecchio interesse su questo strumento per implementare le varie strategie di investimento e di gestione del portafoglio. Nel contesto che ci hai appena descritto, quali sono le soluzioni di ETF e UBS per gli investitori italiani? Noi vediamo molto interesse sulla componente azionaria dell'eurozona, i flussi principali da inizio anno si sono indirizzati verso questa classe di investimento, i nostri analisti stimano che ci possano essere ancora opportunità su questo mercato nel 2015 sia per ragioni legate al quantità di vising della Banca Centrale Europea sia perché il quadro macroeconomico del vecchio continente sta migliorando sensibilmente. I principali flussi su cui abbiamo visto catalizzarsi in interesse degli investitori sono sull'azionario Eurozone, in particolare sul nostro ETF MCI EMU che è un indice molto più diversificato rispetto al più conosciuto Eurostoxx 50, più diversificato, significa con meno volatilità in portafoglio e storicamente negli ultimi 5 anni ha superato l'indice Eurostoxx per 10 punti percentuali. Quindi per ragioni strategiche vediamo i clienti indirizzarsi verso questo indice. Accanto a questo, sempre sul tema Eurozona, vediamo parecchio interesse su un paio di prodotti che abbiamo lanciato a settembre dello scorso anno, MCI EMU Ciclica, MCI EMU Defensive, per prendere la parte ciclica delle azioni cicliche o delle azioni difensive e in generale tutto quello che riguarda gli investimenti Eurozona come Small Cap, come Growth, come Value, continua a raccogliere frutti. Accanto a questo notiamo continuo interesse sulla parte di corporate, sia corporate in dollari sia corporate in euro. Simone ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi e buon proseguimento.